Allora, si dice rotacismo, vuol dire R-Mosha, un difetto dell'articolazione del suono R e non un disturbo del linguaggio. Quindi non ho un disturbo del linguaggio. Ci sono tre tipi di R-Mosha, sostituzione del suono, omettere il suono, distorcere il suono. Io ometto il suono. Le R possono essere tipo di rana, di rana, o di vana, ivana. Da un po' che volevo fare questo video, da quando nel mio documentario serissimo dell'alluvione, dove documento tutto quello che è successo, tutte le cose brutte che sono successe, uno mi fa 25 minuti di R-Mosha non si può sentire. E lì mi è venuto il lampo di genio di prendere la nevica attività e di renderla un video buffo. Quindi leggiamo i 25 scioglilingua con la R più famosi secondo i vari siti scritti da copyright e sottopagati del web. Questo video si chiama R-Mosha. Iniziamo. Bisogna errorare le aree rur... Ce la faccio? Bisogna errorare le aree rurali dell'area di Rovereto. Il grande classico, l'intramontabile, ma non... Quello ce lo teniamo per la fine. Tre tigri contro tre tigri. Che potrei anche dire tre tigri contro tre tigri. Questa è di gola, non la faccio di gola. Remo, rema sull'reno con remi di rame. Facilissimo questo, voto 2. Pure Pelè parti per il Peru, però per il Purè. Interessante, bella storyline. Orrore, orrore, un... su un muro marrone. Questo mi mette in grande difficoltà. Sin da quando ero piccolo avevo grande difficoltà a dire andiamo a vedere un film horror al cinema. È stato sempre molto difficile, infatti non andavo a vedere film horror per quel motivo. Una rana nera e rara sull'arena era una sera. Sopra quattro rossi sassi, quattro grossi gatti rossi. Anche questo, molto facile. Non mi ha veramente... non c'ho neanche bocce di sudore. Bella, questa mi piace. Era proprio uno brobrio col brutto bruco nero. Story time, parentesi. I miei amici mi perculano ancora perché un giorno dopo il liceo facevo un caldo porco e io dissi, non so, probabilmente Leopardi si era impossessato di me, qualche stil novista. All'improvviso sbottai con Ragazzi, che calura, che arsura. Avevo 16 anni e non sapevo le conseguenze ancora delle mie azioni. Allora mi prendono ancora per il culo. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Vabbè dai, questo proprio... L'eroe neanche lontanamente. Seren non è seren sarà, se non sarà sereno si rassenere... Si rasse... Si rasserenerà. Difficoltà di lettura. Comprehension, difficile. Poi abbiamo... Nell'anfratto della grotta 33 gretti gatti 33... Ogni tanto mi esce. Il 33 mi esce. Nell'anfratto della grotta 33 gretti gatti si grattano. Molto difficile. Questo probabilmente è quello che mi ha messo più in difficoltà finora. Porta aperta per chi porta, chi non porta, porta pure, poco importa. Questo sembra uno dei reel su TikTok con Zerok. Che fa merda ragazzi! Questa me la devo proprio raccontare. Porta aperta chi porta, chi non porta, porta pure, chi non porta. Chi importa. Questa è la Divina Commedia. Sodon, l'abitatore dell'oltretomba, il rauco suon della tartare a tromba. Livello Dante. Tre strane timbratrici stringono stringhe... Tre strane... Tre strane timbratrici stringono stringhe a tre timbratrici streghe. Livello festa dell'unità. Perché timbrano i piglietti. Treno troppo stretto e troppo stracco, stracca, strappi, storpi e stroppia troppo. Secondo me hanno usato le AI per generare. Anzi, vediamo chat GPT che cosa mi dice come indovinelli, come scioglilingua con la remoscia. 33 e trentine entravano a Trento tutti e 33 tortellando. Un classico per giovani, anziani, bambini, per tutti. Sei tu quel barbaro barbire che barbaramente barbasti la barba a quel povero barbaro barbone? Molto bella anche questa. Rocco il re dei rapinatori, rapì ricco, detto il ratto, per rovinargli la reputazione di re dei ratti rapinatori. Bruttissima questa, peggiore di tutto secondo me. Poi abbiamo un empio imperatore di ampio impero scoppiare e fece una guerra per un pero che rideva a conquistare il mondo. Intero l'imperatore ma perse l'ampio impero. Ciao GPT non funziona. Siamo dentro Ciao GPT. Record. Ciao saggia intelligenza artificiale. Sto girando un video dove leggo degli scioglilingua con la r... Dove ho scritto mai scioglilingua? Scioglilingua con difficili da pronunciare per chi ha la r moscia o rotacismo. Potresti per favore inventarne qualcuno? Ciao posso creare degli scioglilingua complicati che metteranno alla prova chi ha la r moscia o soffre di rotacismo? Eccone alcuni per il tuo video. Sotto sette salse, sorseggia sette sorprese senza sputare. Tre topi trotterellavano, tre tre teramonti troppo turchesi. Bellissimo. Rocco racconta ricette ricche di ricciuli rossi raccolti nei ricci. Bella anche questa. Lara Chele racconta ricchi di rocce rotolanti. Bellino. Tre tigri tese, tre a tre tronchi trascinando tesori. Bella questa. Poi abbiamo al numero sei. I rudi ranocchi rosicchiano radici roventi. Serena si siede sulla sabbia sottolineando strani sogni. Mi sa che non ha chiaro. Allora c'ha GPT. Ottimo lavoro. Ma alcuni erano per chi ha la S romagnola. Che io pur essendo romagnolo non pronuncio così male. Mi sento male, lo sto bullizzando. Mi scuso se i miei scioglilingue non erano adatti nemmeno per chi ha la S romagnola. Creare scioglilingue specifici per un accento e una pronuncia particolare può essere una sfida. Posso provare a creare altri scioglilingue a fornire suggerimenti più adatti ai suoi desideri. Scusa c'è GPT. Scusa c'è GPT. Non c'è bisogno di scusarci solo per l'aiuto. Ok. Beh, ne hai creati degli altri che vi lascio a voi. E ora, dato che il video in realtà si è protratto più del dovuto, pensavo che durasse tipo tre minuti, ma probabilmente sono dieci minuti che sto parlando. Quanti sono? Dodici. Mi dispiace per il tempo che vi ho fatto perdere con questo video, ma spero che l'ultima parola del video possa far valere tutto il tempo che avete perso, questi 12 minuti della vostra vita persi per sempre, ma con quest'ultima parola tutto cambierà. La parola che tutti stavate aspettando, la parola che anche quella volta che sono andato a fare un progetto video in una scuola materna, quando hanno sentito la mia remoscia, mi hanno chiesto di pronunciare perculandomi. Quindi, i bambini sono malvagi e la parola è... Ramarro Marrone.